Facciamo una rapida carrellata delle erbe che ho trovato nei campi, vedete, questa pianta qui dovrebbe essere la scarlina, che vedete somiglia un po' a un cardo, è parente, è stretto del cardo, è una pianta, come vedete, spinosa, sono piante che, alcune di piante che vi farò vedere sono commestibili, sostanzialmente come questa, mentre altre no, altre hanno proprietà magari medicinali, questo lo conoscete tutti, il papavero, il papavero viene utilizzato in mille modi, non importa che ve li racconti, si trova anche a volte sul pane, i semini di papavero, è una pianta bellissima da vedere, io vorrei che questa carrellata fosse apprezzata più che altro per la bellezza e la varietà delle piante che vi mostrerò, e non tanto per l'uso umano, perché dovete sapere che le piante, anche questo bellissimo lampascione, che tra l'altro viene mangiato di solito il bulbo che sta in fondo, è come una cipolla, non sono fatte per essere mangiate, ma sono piante che vivono la loro vita tranquilla, non è che sono nate per l'uomo, è l'uomo che ovviamente approfitta delle proprietà di queste piante, che però sono contrastanti, questa invece è la stela di Betremme, e questa qua invece è la peverina, se non sbaglio, sono piante che a volte hanno anche delle sostanze dentro che non sono particolarmente sane per l'organismo, altre invece hanno un mix di sostanze molecole utili e molecole invece dannose, quindi sono un mix straordinario, questo qua è una specie di, pensate sia delle margheritine, invece sono una cosa un po' diversa, si chiama astrofalsa pratolina se non sbaglio, comunque è parente sete alle margherite, mentre questa qui vedete è la camomilla, la riconoscete fatta in maniera diversa, ha la parte centrale più rigonfia, qua invece abbiamo, come vedete, il cisto femmina, comunque è un cisto, pianta veramente bello questo fiore, questo fiore è veramente bellissimo, ovviamente di ogni pianta che vi mostro io, quella è una delle tante sottospecie che ho trovato, cioè a volte ce ne sono poi un sacco di piante quasi identiche, che sono però altre piante di altre varietà, con proprietà diverse, questo dovrebbe essere l'iva di Ginevrina, Juniperus comunis, ho fatto una ricerca ovviamente, vi sono fatto anche consigliare, mentre questo è il ranuncolo, che il ranuncolo non lo mangiate, ovviamente, sono piante che hanno delle proprietà che magari vengono usate anche in fitoterapia, però a dosaggi molto bassi, perché altrimenti è una proprietà anche pericolose, ecco, quindi questo ve lo dico prima, Geraneo purpureo, una specie di Geraneo, ovviamente se ho sbagliato ditemelo, eh, questo è lo Spalviere dei Boschi, pianta di Conorara, anche questo è utilizzato in erboristeria, poi c'è la Bardana Selvatica, il Grespino Spinoso, avete visto quanto è grossa la Bardana, eh, mentre questo è il Grespino Spinoso, e ce ne sono anche altri esemplari che vedete qui vicino, probabilmente il Grespino Spinoso quando è piccolino viene, io mi ricordo mia nonna lo mangiava, lo bolliva, poi andiamo avanti, ora un attimino ci siamo un po' soffermati su questa pianta spinosa, andiamo avanti perché, vedete, questa è un'altra specie di Cardo che mi sfugge, di cui mi sfugge il nome perché non vedo nemmeno i frutti, quindi è difficile valutare, di queste piante qui simili parenti del carciofo, ce ne sono una varietà incredibile, sono Cardi di vario tipo, mentre questa qua non so se è la bella donna oppure una pianta o quell'altra pianta che fa quei pomodorini neri, che non sono pomodorini ovviamente, è una delle due, comunque sono piante che queste qui sono assolutamente da evitare, mentre per quanto riguarda qua sotto, guardiamo un po', qui abbiamo visto la malva, la malva non si può sbagliare, vedete, la malva di cui le comunità conoscete non è ancora fiorita, dovrebbe fiorire a breve la malva, quindi poi è una pianta strepitosa anche nelle foglie la malva, pianta che io, di cui mi nutro spesso, mentre questa qua sono gli ombrellini pugliesi, e siamo in Toscana però, credo siano gli ombrellini pugliesi, vedete, la forma è quella, ho cercato di confrontare, però è una pianta che è parente stretta della cicuta, mentre qua andiamo, vedete, queste sono delle, sono dei legumi, leguminose, ne parlerò dopo, sono tipo delle cicerchie, mentre qua andiamo sulla rapa selvatica, che credo tutti conoscete, che fa queste scimine di rapa, fa questi fiorellini, poi dopo i frutti, magari faccio un video sulle piante estive, e sarà già in seme, e avrà i suoi semini, che sono molto belli, caratteristici, nel loro contenitore a punta, con tre semini, rivolti verso l'alto, vedete, si può mangiare, io di solito la rapa selvatela mangio, in piccole quantità, perché è molto piccante, ogni tanto, mi rinfresca un po' la bocca, e andiamo avanti, perché c'è davvero tantissimo da vedere, questo dovrebbe essere l'omboricolo di venere, una pianta anche questa, che è cicatrizzante, diciamo più per la medicina, me lo dava mia nonna sulle, più che altro sulle bruciature, mi ricordo, mentre qua ancora cicerchie, questa dovrebbe essere cicerchia doberosa, ma non lo so, mentre qua, vedete questa qua invece, la romische acetosella, questa la chiamavo erba dolce, così mi ha insegnato mia nonna a chiamarla, e me la mangio spesso, ovviamente non c'è da esagerare, perché è anche delle sostanze, come tutte le piante, delle sostanze che non sono proprio in massimo, quindi se ne possono mangiare, piccolissime quantità per assaggiare, di questa qui, senza ovviamente esagerare, io lo mangio da sempre, non ho avuto problemi, però dovete imparare a conoscerla, altrimenti non fate, come per i funghi, non dovete mettervi, le foglioline così, sono la parte migliore, secondo me della pianta, non dovete buttarvi a mangiare piante a caso, perché è un po' come i funghi, non è così meno pericoloso dei funghi, in realtà è pericoloso ugualmente, quindi conoscere prima, e poi assaggiare, anzi guardatele basta le piante, così non rischiate niente, perché sono bellissimi anche questi fiori, questo dovrebbe essere il boccione maggiore, anche questa qui, credo che faccia parte delle famose piante, che verso gennaio e febbraio, venivano bollite, venivano tagliate basse e bollite, mentre ancora vedete, avete visto l'ampascione, però questa volta non ho trovato, andava scavato, per trovare, diciamo, la cipollina sotto, perché a volte è molto in profondità, vedete che biodiversità, vedete quante piante, crescono in pochi metri quadrati, ci sono tantissimi animali, che vivono qui dentro, bombi, api, tantissimi tipi di insetti, coccinelle, piccole cavallettine, chi più ne ha ne metta, e ovviamente questo permette anche, se voi non falciate, falciate magari, solo quando vanno a seccare a giugno, per fare il cambio con le piante estive, evitate che ci siano nel vostro terreno, le infestazioni eccessive, e lasciate finire il ciclo, a queste piante, in modo che non vi trovate un campo d'erba, solo di graminacee, perché se voi, queste piante qui, le avrete soltanto se le lasciate sviluppare insieme, se invece voi continuate a strappare l'erba, tagliare l'erba, avrete solo i graminacee, che ripartono da sotto, mentre questa è la lunaria annua, detta anche medaglioni del Papa, questa è sempre parente della Rafa, più o meno, e questa qui, un po' più magari da erboristere, io ho provato a dire verità a assaggiarla, e non mi è piaciuto il sapore, non mi è piaciuto per niente, non mi piace, poi ognuno ha i suoi gusti, non è una pianta, secondo me, che può essere mangiata in quantità elevate, sinceramente, se ne può fare volentieri a meno, però è veramente bella da vedersi, ammiratela, come pianta, e non pensate che ogni pianta sia stata pensata per l'uomo, per servirlo, vedete, qui è in versione fiore, sempre lunaria annua, e poi farò vedere la versione, metà fiore e metà frutto, per farvi capire, insomma che è la stessa pianta, è veramente la pianta ornamentale, bellissima, volendo, guardate, i fiori, in realtà vedete com'è simile, com'è l'infiore in scienza, è simile a quella alla rapa, il frutto è diverso, vedete, sono piccoline già, ci sono già più piccoline, questi contenitori di semi schiacciati, che sono veramente belli da vedere, e poi diventano ancora più trasparenti, quando maturano, e vedete quante ne fanno, veramente è una pianta meravigliosa, e andiamo avanti, nel nostro escursus di piante, come vi dicevo, io ho cercato di darvi una bella lista, di piante da vedere, questo è il sambuco, deve ancora fiorire, poi farò vedere, magari le piante estive, il sambuco, quando diventa nero, e può essere mangiato, da non sbagliare, scambiare con il lebbio, perché l'inforescenza e il frutto, sono simili al lebbio, solo che il lebbio, è una pianta molto più erbacea, molto erbacea, mentre il sambuco, mi farò vedere a poco, ha un tronco consistente, è una pianta arborea, va anche a 3-4 metri di altezza, volendo, perché ha un tronco robusto, non è un tronco di erba verde, è un tronco, magari non proprio un legno, particolarmente resistente, non farete mai mobili in legno di sambuco, però è sempre un legno, vedete ora andiamo dentro, ecco vedete, questo qui è il legno del sambuco, che poi fa un sacco di rami sin treccio, io ho cercato di ridimensionarlo, perché ovviamente devo gestire il campo, però il sambuco è importante, e va tenuto, è una pianta meravigliosa, per tante proprietà che ha, e poi nutre, non solo me, ma anche gli uccellini, è una pianta che ci dà tanto, e vive ovviamente nei posti freschi, c'è sambuco di montagna, quello rosso, magari ve lo faccio vedere, poi finocchietto selvatico, come vi ho fatto vedere, nello short di youtube, beh, questo è il mio preferito, perché vedete, è molto succoso, anche consistente, come quantità, si può mangiare, ma anche questo qui, non è che ne potete mangiare chili e chili, perché comunque, ha una quantità enorme di molecole dentro, e c'è di tutto e di più, mentre questi qui sono i pendaglini, brizza massima, viene chiamato, sono i tipo dei, sono aglini, pendaglini, vedete, quando sono secchi, fanno proprio questo effetto, con il vento estivo, rimangono così, e dondolano, danno questa idea, insomma, spettacolare, di piante dondolanti, mentre qua, vedete, semplici cerchia, c'è questa, questa credo sia quella a fiori gialli, che ha già fruttificato, e insomma, è un baccellino, che ha i suoi semini, che vi farò vedere, opportunamente, perché merita, ecco vedete, ora lo apro, è un attimo, ho fatto uno stacco di reama, per aprirlo, vediamo se riuscite a vederlo, ecco, quattro semini, ma insomma, sono in brandi pisellini, visti così, e questo però, credo che appartenga, insomma, venga considerata una cicerchia selvatica, di tanti tipi che ci sono, forse cicerchia pelosa, questa qui invece, è sempre cicerchia, questa è quella con i fiori, vedete viola, e guardate il portamento che ha, quanto si alza e si mescola, con tutte le altre erbe, vedete, questa è la biodiversità, avere tante erbe, e avere la possibilità di far vivere all'interno, queste fiori gialli, tante piante diverse, in armonia, fra loro, arrivederci.